radio flash e livornomagazine.it presentano innamorarsi di livorno boia de sacro e profano di maurizio silvestri in famiglia con gli amici allo stadio ma anche in alta società quella livornese anche se non è facile trovarla e tra gentleman veri dove il termine accolto scherzosamente con curiosità de con la e chiusa e non aperta come erroneamente qualche nordico ripete per scimmiottare il livornese verace de quello che viene dal profondo e chiama accompagnarsi all'altra famosa esclamazione ovvero boia boia de dunque il massimo la quintessenza della livornesità ma cosa vuol dire nessuno lo sa per trovare una risposta e svelare finalmente l'arcano siamo andati indietro nel tempo grazie all'accademia della crusca e al manzoni ce l'abbiamo fatta ma non è stato facile perché prima abbiamo dovuto sfogliare libri e riminiscenze di glottologia abbiamo scoperto che livorno ha ben poco di toscano neanche la tipica gorgia della quale i fiorentini vanno fieri qui la lettera c tanto strascicata per la quale casa diventa hasa con la a molto aspirata abbiamo sfulciato fra gli altri termini strani e ci siamo imbattuti in paroloni tipo gadollo scoprendo che viene dal bagitto una parlata rudimentale come il bagitto di un neonato ma in grado di far capire i membri della neonata comunità israelitica di rivorno con tutti gli altri cittadini che venivano ad abitare la città dal diciassettesimo secolo in poi de ma ci dice o no cosa significa il nostro de mi sembra proprio di sentirvi che a questo punto non resistete più ebbene eccovi serviti de non è altro che la contrazione di madie ovvero mio dio così come il milanese mai de secondo l'accademia della crusca è una particella usata dagli antichi alla provenzale sia a milano che in toscana era come ci ricorda alessandro manzoni nella sua storia della colonna infame una delle tante formule di giuramento entrate per abuso nel discorso ordinario la parola boia è venuta poi come ulteriore rafforzativo ad un'affermazione per la quale col de si dà una prova di giuramento il de ha dunque un significato diverso da interiezioni che si trovano in molte lingue e in altre zone d'italia ma non è una cosa strana che si è entrato nel linguaggio comune quasi ad indicare un intero popolo è accaduto molte volte anche per le persone ad esempio lo stesso famosissimo ernesto guevara deve il suo soprannome al termine ce aggettivo possessivo che in argentino antico significa mio il braccio destro di fidel castro intercalava costantemente i suoi discorsi con quella parola a proposito di boia il compagno del nostro de è chiaro il riferimento a quello che somministrava le pene capitali pene che venivano inflitte da prima in fortezza vecchia quindi nella zona dell'attuale via dell'arderel dove è stato di recente costruito un grande complesso abitativo e commerciale lì c'era la ghigliottina importata con l'occupazione francese della città e poco distante il cimitero dei senza dio i giustiziati